Buongiorno, sono la professoressa Marzia Innocenti, presidente del corso di laurea di Scienze Farmaceutiche Applicate e Controllo di Qualità. In questa presentazione vi illustrerò brevemente il corso di laurea prendendo in considerazione sia gli aspetti organizzativi che gli sbocchi professionali. Il corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate e Controllo di Qualità è l'unico corso di laurea triennale dell'area chimico-farmaceutica coordinato dalla Scuola di Scienza e la Salute Umana. È un corso di laurea altamente professionalizzante che forma la figura del tecnico esperto nel controllo qualità e che al termine del suo percorso possiede un titolo di studio immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Il laureato in Scienze Farmaceutiche Applicate e Controllo di Qualità possiede al termine del suo percorso formativo competenze che spaziano in vari campi chimico, tecnologico, biologico e soprattutto farmaceutico-analitico. Queste competenze offrono al laureato sbocchi occupazionali in diversi settori, laboratori di assicurazione di qualità e di controllo chimico, tecnologico, farmacologico e biologico dell'industria, delle aziende sanitarie locali e dei laboratori di analisi sia pubblici che privati, attività al libro professionale nel settore di riferimento del corso di studio, attività previste dall'iscrizione al labo professionale dell'ordine dei chimici sezione B, rilevazione chimico-tossicologica ambientale in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e in laboratori pubblici o privati, ma anche monitoraggio delle acque e del dell'area del suolo e degli alimenti. Le possibili funzioni assunte in un contesto di lavoro riguardano, secondo l'Istat, i seguenti profili professionali. Tecnici chimici, tecnici della produzione manifatturiera, tecnici della produzione alimentare e tecnici di prodotti alimentari, tecnici della produzione e del controllo degli impianti di trattamento delle acque, tecnici del controllo ambientale e tecnici di laboratorio chimico. Tale attività si realizzano nell'ambito dell'industria farmaceutica, cosmetica e alimentare, nelle aziende sanitarie locali e nei laboratori di analisi pubblici o privati. Si accede al corso di studi attraverso una prova d'ingresso che serve a valutare la preparazione iniziale e a fornire allo studente consapevolezza sulla propria attitudine a intraprendere questo percorso di studi. Il test nell'anno accademico 2021 sarà un numero programmato, ma l'elevato numero di posti messi a bando consentirà a tutti, indipendentemente dal punteggio ottenuto, di accedere al corso di laurea. Non dovete quindi farvi assolutamente frenare dalla paura dell'esito del test, perché vi consentirà di iscrivervi comunque vada alla prova. Nell'anno accademico 2021 la prova non potrà svolgersi in presenza, ma si svolgerà in modalità telematica. Si effettuerà a settembre utilizzando un test appositamente predisposto focalizzato su domande di matematica, fisica, chimica e biologia. La prova serve per capire qual è il vostro livello di preparazione iniziale e se siete adatti al corso di studi. È infatti richiesta una certa attitudine a materia in ambito scientifico. Il test TOLC B del TOLC CASA si basa su 50 acquisiti. Di questi, 20 domande riguarderanno la matematica di base e 10 per ciascuna delle altre tre sezioni, biologia, fisica e chimica. Se nella sezione di domande di matematica di base lo studente totalizza un punteggio minore di 8, acquisisce un debito formativo, un cosiddetto OFA, obbligo formativo aggiuntivo in matematica, che dovrà recuperare frequentando un corso di recupero, erogato in modalità e-learning. La normativa ministeriale indica che lo studente deve aver assolto gli OFA entro il primo anno. Come conseguenza, lo studente potrà iscriversi al secondo anno con riserva che sarà sciolta in caso di assolvimento OFA entro il 31 marzo dell'anno successivo. Ad esempio, per gli immatricolati nell'anno accademico 2021, il debito OFA dovrà essere recuperato entro aprile 2022. Il piano di studi si articola in 3 anni e 20 esami, che corrispondono a 180 CFU. Una buona preparazione della scuola superiore in materie d'ambito scientifico, come fisica, matematica e chimica e una buona attitudine allo studio consente di arrivare al termine del percorso nei tempi previsti, cioè 3 anni. Osservando il piano di studi si nota che al primo anno sono presenti tutte le materie di base, chimica, matematica, fisica, biologia, anatomia, mentre dal secondo anno in poi le materie diventano più caratterizzanti con un notevole aumento dei corsi con esercitazioni di laboratori a posto singoli, che sono indicate in viola nella diapositiva. Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno dello studente, che vengono suddivise in 8 ore di frequenza delle lezioni in aula e 17 ore di studio individuale, quindi un rapporto frequenza studio di 1 a 2 che complessivamente dà idea del carico di studio. Questo rapporto si modifica leggermente nel caso di attività con esercitazioni in laboratorio. Per ogni CFU lo studente opera in laboratorio per circa 12 ore e quindi sono necessarie meno ore di studio individuale. La forte connotazione pratica applicativa di questo corso di studi trova la sua espressione maggiore nel tirocinio curricolare, che viene effettuato in un'industria del settore di riferimento, quindi un'industria farmaceutica, alimentare, laboratori di analisi e ASL, aziende ospedaliere. È un'esperienza questa del tirocinio che impegna per almeno 5 mesi, che corrispondono a 27 CFU, e che vi offre l'opportunità di conoscere e farvi riconoscere sul lungo periodo dal mondo delle professioni. Circa 40 CFU sui 180 totali sono dedicati quindi a corsi con esercitazioni a posto singolo. Ci sono poi da considerare 27 CFU, pari a 675 ore corrispondenti a 5 mesi, di tirocinio curricolare in un'industria del settore di riferimento del corso di studi. Quindi complessivamente 67 CFU, cioè più di un terzo dell'intero percorso, sono dedicati a formazione pratico applicativa, che ha una caratteristica peculiare di questo corso di laurea. L'elevato numero di CFU assegnati all'attività di tirocinio è il risultato di specifiche richieste delle parti interessate, aziende del settore ed enti territoriali, che hanno attivamente preso parte alla progettazione del percorso formativo. Lo studente viene guidato nel progetto di stagio dalla figura del coordinatore di tirocinio del corso di studi, che sulla base degli ambiti disciplinari di riferimento farmaceutico, nutraceutico alimentare, cosmetico, microbiologico, tossicologico e ambientale e degli interessi preferenziali dello studente, coordina la definizione del progetto formativo, attraverso lo scambio continuo con le numerose aziende del settore. Durante il tirocinio farete poi una relazione sull'esperienza e il lavoro svolto che costituirà il vostro elaborato di laurea. Le lezioni frontali si svolgono in parte presso le aule del centro didattico Morgagni in Viale Morgagni 40 e in parte presso le aule del polo scientifico di Sesto Fiorentino, via Ugo Schiff 6. I corsi pratici con esercitazioni di laboratorio invece si svolgeranno presso i laboratori didattici in Viale Morgagni 57. Il corso di laurea Scienze farmaceutiche applicate controllo qualità offre agli studenti un servizio di tutorato didattico, ossia azioni di supporto allo studio e alla didattica finalizzata alla progressione di carriera e all'aiuto allo studente in difficoltà con lo studio di materie specifiche. L'aspetto interessante di questa attività di tutorato è che sono svolte da studenti di lauree magistrali o dottorandi che riescono così a stabilire un rapporto più diretto con gli studenti. Le azioni riguardano progettazione e realizzazione di attività didattico integrative, esercitazioni di gruppo ma anche studio individuale su argomenti specifici. Sul sito web indicato sono riportate tutte le informazioni relative ai tutor assegnati al corso di laurea di Scienze farmaceutiche applicate controllo qualità. Secondo i dati riportati dall'indagine Alma Laurea del 2020, che si basa sui dati del 2019 ad un anno dalla laurea, chi ha concluso il percorso formativo è complessivamente soddisfatto dell'esperienza universitaria e anche i tempi dall'inizio della ricerca e reperimento del primo lavoro sono molto brevi, mediamente quattro mesi. La maggioranza di tutti e tre i collettivi, dal 66,7% del collettivo 2018 all'80% del collettivo 2017, lavora e non è iscritto ad una laurea di secondo livello. Il tasso di occupazione, secondo la definizione Istat, è molto elevato e va dall'80% del collettivo 2019 al 100% del collettivo 2018. I laureati occupati di tutti i collettivi lavorano in larga maggioranza nelle aziende del settore privato. La percentuale va dal 66,7% nel collettivo 2018 al 100% del collettivo 2019. Il 57,1% dei laureati del collettivo 2019 è impiegato nell'industria e in particolare il 42,9% nel settore della chimica e energia, il 12,5% in altra industria manifatturiera, il 42,9% è impiegato nei servizi, di cui il 28,6% nel commercio e il 14,3% in consulenze varie. La coerenza con gli studi si dimostra quindi elevata. Dal punto di vista dell'impresa, come è possibile osservare dal grafico, le aziende considerano molto soddisfacente la preparazione dei laureati ed hanno un giudizio complessivo molto buono, anche in termini di altre soft skills, capacità di risolvere problemi, capacità di adattamento e di lavorare in gruppo. Guardando più in prospettiva dal punto di vista dei fabbisogni occupazionali, da un'indagine Union Camere, ANPAL, Sistema Informatico Excelsior, risulta un discreto interesse da parte delle imprese rivolto a laureate nell'indirizzo chimico farmaceutico, con circa 24.000 inserimenti previsti. Tra le figure professionali di questo indirizzo c'è quella del tecnico chimico ed in particolare il profilo professionale del tecnico per attività di laboratorio e per la gestione dei processi produttivi, profilo che è esattamente quello formato dal nostro corso di studi. Il laureato in scienze farmaceutiche applicate e controllo qualità non ha solo l'opportunità di un immediato ingresso nel mondo del lavoro, ma anche quella di continuare gli studi in un percorso magistrale a fine. Infatti, scienze farmaceutiche applicate e controllo qualità è un percorso triennale a cui non è direttamente associata una laurea magistrale di proseguizione, ma lo studente può comunque rivolgersi a corsi di laurea magistrali, per esempio le magistrali a ciclo 1 o dell'area del farmaco, farmacia e ctf, o ad altre come scienze dell'alimentazione, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Ovviamente deve richiedere al corso di laurea di destinazione il riconoscimento della carriera pregressa, che potrà non essere completo, e il debito formativo conseguente dipende dalle regole di passaggio e trasferimento del corso di laurea di destinazione. Ulteriori opportunità di valorizzazione delle competenze sono i master di primo livello in ambito di qualità e certificazione di prodotto. Il corso di laurea è adatto anche a soddisfare le esigenze di qualificazione professionale di chi sia già inserito nel mondo del lavoro. Di seguito vi riporto contatti delle persone di riferimento del corso di studi, con indicati anche i siti web sia del corso di scienze farmaceutiche applicate e controllo qualità che della scuola di scienze della salute umana, dove potete trovare tutte le informazioni che vi ho riportato in questa presentazione, ma anche ulteriori dettagli.